Benvenuti nel mondo di De Witt. De Witt è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2003 dal conte Jerome De Witt, discendente della famiglia imperiale francese. La sede dell'azienda si trova a Ginevra, in Svizzera, mentre la produzione degli orologi avviene in loco e negli atelier di alta orologeria nel cuore della Francia. L'attento lavoro artigianale e l'utilizzo di materiali di alta qualità rendono gli orologi De Witt una vera opera d'arte. I loro design unici e raffinati, spesso ispirati ai simboli della nobiltà e della monarchia europea, come la corona, lo stemma e la regalità, sono perfettamente bilanciati dalla tecnologia all'avanguardia e dall'alta qualità dei materiali utilizzati nella produzione. In particolare, De Witt è noto per la complicazione e ripetizione minuti per i suoi orologi, dal suono estremamente chiaro e forte quando l'orologio segna le ore. Nello specifico, il marchio è stato uno dei primi a sviluppare un sistema per eliminare le vibrazioni indesiderate, che si verificano nei movimenti convenzionali, garantendo un suono nitido e armonioso. Gli orologi De Witt sono dotati di movimenti altamente complessi e di alta precisione, spesso realizzati a mano con una maestria artigianale. I materiali utilizzati sono di altissima qualità, come l'oro rosa, l'oro bianco e il platino, e sono spesso combinati con pietre preziose come i diamanti, che conferiscono all'orologio un'eleganza e una raffinatezza senza pari. Tra i modelli più famosi di De Witt troviamo l'Accademia Tourbillon di Ferentiel, dotato di una complicazione di regolazione del tourbillon unica, e l'Accademia Skeleton, caratterizzato dal suo design scheletrico che rivela il complesso movimento interno. Ogni orologio De Witt è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata e arte, con un'attenzione minuziosa ai dettagli e alla perfezione. In conclusione, De Witt è un marchio di orologi di lusso con una forte attenzione al design e alla tecnologia innovativa. I loro orologi sono caratterizzati da un'alta qualità dei materiali, come l'oro rosa e il platino, e spesso combinati con pietre preziose. Inoltre, De Witt è noto per la sua innovazione nella ripetizione minuti, che offre un suono estremamente chiaro e forte, e per i loro movimenti altamente complessi e di alta precisione.